52 è il numero della stagione del Macerato Opera Festival. Quest'anno la lirica avrà l'Otello, la Norma, il Trovatore e anche Medea. Ma il Macerato Opera Festival non è solo la lirica, è anche una festa continua che partirà il 22 di luglio appunto dallo Sferisterio, ma si protrarrà fino al 14 agosto anche fuori dalle mura dello Sferisterio, all'interno della città. Tantissime iniziative gratuite, tantissime feste insieme ai cittadini che celebreranno e racconteranno le storie del melodramma che quest'anno saranno guidate dal filo rosso del Mediterraneo. Il tempo del Macerato Opera Festival sarà l'occasione per ammirare questa città dove si fonderanno insieme le musiche, le arie e le storie del melodramma unitamente a una città che aspetta tante persone affinché si possa vivere insieme la gioia di un festival fatto per le persone e che culminerà il 4 di agosto nella Notte dell'Opera, da Corso Cavour, da Corso Cairoli fino al Centro Storico, il Mediterraneo attraverso tutte le sue espressioni, tutte le sue sensibilità saranno i protagonisti di una festa di tutti e per tutti nella quale si rivivrà in maniera totale e appassionante quelle che sono le storie di Otello Norma e Trovatore. Macerata Opera Festival è anche visita di questa città e quindi Sferisterio, ma anche il Palazzo Bonaccorsi con i suoi tre allestimenti museali, ma anche il Teatro Lauro Rossi, uno dei pochi esempi di teatri del Settecento, e poi l'Università e poi la Biblioteca Mozzi Borgetti e poi c'è il Museo delle casse di terra di Ficana aperto pochi mesi fa e che è un esempio unico nel territorio nazionale di un insediamento urbano di casse di terra difficilmente ritrovabile ad eccezione evidentemente di Matera. Ma poi tante altre cose, soprattutto l'accoglienza, i sorrisi delle persone, la capacità di stare insieme, il piacere di vivere in una città che è una gemma fin qui poco scoperta.